Il Porto d'Ascoli fa sua la stracittadina contro la Samb. L'inedito match di campionato termina con il punteggio di 2-0 per l'undici di Davide Ciampelli che ha saputo capitalizzare le azioni concesse, come al solito, dalla Samb nell'arco di 90 minuti. Ancora una volta gli errori individuali hanno penalizzato la formazione rosso-blu sul primo gol con Cipolletta che tiene in gioco Napolano e poi causando con Di Domenico Antonio un rigore evitabilissimo ad inizio ripresa. Donati, viste le assenze di Luglia Moruso, passa al 4-3-3 con i giovani Isacco, Lisi e Lorenzoni in mediana e con ben sei under in campo. Per quanto riguarda il fronte offensivo sono Travaglini e Ferretti a comporre il tridente con Mendicino. Ciampelli, d'altro canto, deve fare a meno dello squalificato da Alessandro a centro campo e dal suo posto ecco Petricci. Anche il Porto d'Ascoli si schiera con il 4-3-3 con in avanti Verdesi, Napolano, Falso, Nueve e Battista. La prima azione del match è della Samb, triangolo in velocità Ferretti-Sacco-Ferretti con la conclusione in diagonale del numero 7 rosso-blu che colpisce l'esterno della rete. La risposta del Porto d'Ascoli al diciannovesimo, angolo di Napolano con passa l'acqua che di testa anticipa tutti ma la palla si perde alta sulla traversa. Tre minuti dopo Verdesi va via in velocità Cipolletta ma è bravo Varga ad anticipare la corrente Napolano. Un primo tempo al piccolo trotto che si accende con le fiammate dei singoli ma al ventinodesimo l'equilibrio in campo viene rotto dal vantaggio del Porto d'Ascoli. Lancio di Rossi per Napolano che partì dopo la seasone regolare in trenare e batte in uscita Brandini. Va nelle proteste del rosso-blu che chiedevano il fuorigioco del capitano del Porto d'Ascoli, il classico gol dell'ex. La Samba si fa vedere le parti di testa al trentaseesimo con una punizione di Mendicino ma la palla si perde alta sulla traversa. Quattro minuti dopo è decisiva la diviazione di Sensi sul tocco di Mendicino dopo un affondo di Lorenzoni con la palla che termina in calcio d'angolo. Il primo tempo si chiude con il rosso-blu in avanti ma senza creare pericoli di sorta all'estremo difensore del Porto d'Ascoli. Anzi proprio allo scadere l'ex Napolano si ora il palo su calcio di punizione dal limite. Nella ripresa subito due cambi perdonati fuori Lise e Travaglini dentro il neo arrivo di Domenico Antonio e Cummo con Lorenzoni che si affianca a sacco in mediana. Al terzo minuto ecco l'ennesimo errore rosso-blu di Domenico Antonio frana sul rosso in piena area di rigore per Totaro di Lecce e calcio di rigore. Dal dischetto Battista si fa ipnotizzata a Brandini ma il numero 11 bianco-azzurro è pronto a ribadire in rete la ribattuta del portiere Riverasco. Al decimo ci prova Ferretti con il sinistro a giro appena entrato in aria ma la palla si perde sul fondo. Nove minuti dopo è sempre il numero 7 rosso-blu con la conclusione di sinistro al volo ma la palla si perde alta sulla traversa. Al ventesimo Donati si gioca a carta Peroni un altro esterno offensivo per Miruku con la Samba che si mette con la difesa a tre. Il rosso-buno sfonda nel fortino bianco-azzurro che resiste senza particolari affanni. Al treda settesimo la Samba è pure sfortunata quando Lorenzoni di testa colpisce il palo su cross di Domenico Antonio. Negli ultimissimi minuti dell'incontro è sempre Domenico Antonio ad impegnare testa nella direzione in angolo e dal tripice fisco di Totaro di Lecce festa grande in casa Portodascoli che può segnare il giro di ottobre come altra data del circoletto rosso nella sua storia calcistica. La Samba invece è sempre ultima in classifica a 0 punti in quattro partite. La Samba invece è sempre ultima in classifica a 0 punti in quattro partite.